Copri più mino Aquiloni Zucchi, un altro dormire. Secondo appuntamento con Iva Zanicchi e le sfide tra i grandi interpreti della musica. Questa volta saranno messe a confronto le canzoni dei Beatles e quelle di Lucio Battisti. Naturalmente canteremo le loro canzoni, il loro repertorio, faremo vedere dei filmati inediti. Come sempre, sarete voi da casa, in diretta, a decretare il vincitore. Iva Zanicchi conduce Io tra di voi. Domani alle 21, in diretta, su Rete4. Nani sono? Duplo, più buono o più leggero? E anche con Duplo vinci una pioggia di scooter, in taglio 100 scarabèo a friglia. Don't touch my bale. Proteggere la tua famiglia, per te, è la cosa più importante. Beh, anche per noi di AXA la tua famiglia è importante. Per questo oggi nasce Protezione Familiare AXA. Parlami con un agente AXA. AXA, assicurazioni e investimenti. Maestro, pesa un quintale, prenda sta mela. Ma è l'ultima. Appunto, se sbrighi. Io ho un brutto presentimento, ma, con questa mela. Eppure la sapevate la storia della mela? Io sì, di fatti la colpa è del laurenti. Ma a me, manco mi piace, ma ci dobbiamo fame. Io giuro, sorpie, gli posso spiegare tutto, gli posso... Può stare un caffè? Qual le pare il momento? Sì, crema e gusto, ogni momento è quello giusto. Lo dice il proverbio. Pazzo quanto è buono sto caffè, eh? Ha visto? Ci ha perdonato. Siamo nel 2000, stiamo. E guarda ancora che tocca fa per far nevicare in Italia. Può dire che è costa caro a nascià. E l'hanno fatto pure santo. Con il nuovo Airwik elettrico, ha il 60% di durata in più. E inoltre gratis un altro diffusore. Ed è disponibile in sei profumazioni. Airwik, fragranze che cambiano la vita. E questo, chi è? Giovanni Rana, vero? Quello dei gran ripieni? Grazie, grazie! Fuori tenera sfoglia, dentro funghi porcini in una crema di formaggio. È così grande il piacere che i gran ripieni portano sulla tua tavola, che è impossibile non ricambiare. Vorresti vedere quello che finora hai solo immaginato? Da oggi con Fastware puoi vedere nel televisore la persona con cui parli al telefono. Come vedi me adesso. Fastweb. Da oggi è anche videocomunicazione. Direi che l'uomo Conad ha fatto centro. Sapori ed intorni. Conad. La qualità lascia il segno. Con gli snack Kinder e Ferrero la pioggia di scooter continua. Con il grande concorso Apri, Vinci e Spreccia. In taglio 100 Scarabeo Aprilia Ecologici. Il prossimo a vincere puoi essere tu. Con gli snack Kinder e Ferrero. E con i punti la sacca Aprilia. Nuovo Zero Calc Professional di Imetec. Con filtro anticalcare ancora più potente. Nuovo Zero Calc Professional. Combatte il calcare per darti più vapore. Da Imetec. Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano. Amaro Lucano. Voglio il meglio. Biblioteca storica. Per scoprire eventi e personaggi che hanno fatto la storia del Novecento. Questa settimana la storia dei Savoia. Solo con il giornale. Fitness di Nestlé. Perché è diverso. Perché è fatto apposta per me. Frumento integrale. Poche calorie. Un sapore delicato e delizioso. Le donne amano sentirsi in forma con tutto il piacere di una colazione gustosa. Proprio quello che voglio anch'io. Fitness di Nestlé. La linea che ti dona di più. E se non vuoi rinunciare al delizioso sapore della frutta. Scopri Fitness Influence. L'estate è finita. No! Mira il dito. L'estate ritorna con... Estatè. Ogni giorno vinci un viaggio da sogno per due persone in un meraviglioso villaggio Viaggi del Ventaglio. Mi gusta, mi gusta! Telefona o clicca e vinci con Estatè. Trovi il regolamento su www.estatè.it E sulle cartoline nei punti vendita. Si sente... ...quando è estate. Do, 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 do. Ah! Bravo! When I was young, it seemed that life was so wonderful A miracle, oh it was beautiful, magical Oh, Jake, 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 yeah! Magnolia, prima tibure di patto Stasera alle 23.10 Questo programma è offerto da Pata Snella La patatina fritta che si cuoce in forno Al mattino bel tempo al nord, Sardinia e medio e alto terreno Nubi sul resto dell'Italia con piogge o rovesci Su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria Al pomeriggio qualche pioggia o rovescio su Abruzzo, Molise e al sud peninsulare Bel tempo sulle restanti regioni Forte maestrale sul terreno, libeccio su Ionio e Basso Adriatico Bora su medio e alto Adriatico Temperatura in calo sul medio e alto Adriatico Dati servizio meteo aeronautica, elaborazione grafica Epson Copri più meno aquiloni, zucchi, un altro dormire Guardia Marina, giovane ai tante con un incarico molto importante Sgominare una banda di allibratori clandestini che opera qui in Florida Ma per arrivare dritti allo scopo ci vuole un socio abile al gioco Cervello zero, ma di forza tanta mi viene da piangere Due contro tutti, pensate sia poco? Lasciateli fare, e state a guardare È un'ottima idea Non penserete che sia finita qui? No Bud Spencer, Terence Hill Pari e dispari, martedì alle 21 su Rete4 Libertà Armonia Eccellenza Fernet Branca Autentico per natura Sogni un'auto che triplichi i tuoi vantaggi? Opel Corsa Il vantaggio del prezzo straordinario Il vantaggio dei consumi più bassi della categoria Da oggi anche sul diesel L'incredibile vantaggio delle offerte Opel Che moltiplicano fino a tre volte gli incentivi statali Opel Corsa Da 8.590 euro Con anticipo zero Ah, la nuova Golf Buongiorno Ah ma parla italiano Mi sei qua A casa usiamo solo rio melaceto Aceto di mele detergente Deve sgrassare la bella o fornelli Niente ci fa Melaceto ce la fa Forno frigo Niente ci fa Melaceto ce la fa Pulire Diodorare Niente ci fa Melaceto Apropita anzi calcare Sgrassanti di limina Cazzo di odore Sono docente di chimica Nonché la sua nuova vicina Sono un cretino Niente ci fa Rio melaceto ce la fa Il mondo dei 3 in 1 Da oggi è Total Nasce Finish 3 in 1 Total Gli agenti pretrattanti attaccano le macchie più difficili Ammorbidendole L'azione del detergente Del sale Del brillantante Ti dà non pulita una brillantezza totale Finish 3 in 1 Total Arriva McCain Patate così Non le avete mai viste McCain e vissero felici e croccanti Per chi accontentarsi di guardare il mondo da un finestrino Un robot da cucina per la mia festa L'avrei fatto a pezzi Ma era Ovatio da Moulinex Ho frullato la frutta Ho tritato la carne E con il maxipresso ho preparato il purè in un attimo Lavato in fretta Messo via in fretta Per questa volta non credo che lo farò a pezzi Ovatio di Moulinex Clinianx azioni antirughe Il primo trattamento all'estratto di milograno Prevenzione quotidiana Per difendere la tonicità del viso e del contorno occhi Clinianx Clinianx La mia clinica della bellezza È arrivato lo sciamano Ha portato la magia Carlo Santana Sciamano Il nuovo magico album Benvenuti a Discovery Prata Oggi cari amici scopriremo il mondo degli orsi del chispios Ecco guardate con che abilità riescono ad afferrare al volo le loro prede Poi quando sono sazi e hanno sete Molta sete Guardate cosa accade È incredibile Anche gli orsi del chispios preferiscono la naturale leggerezza di acqua prata Acqua prata E alla prossima puntata Nuova Ford Fiesta Vivi davvero A 10.950 euro con climatizzatore Prezzi bloccati fino al 30 novembre Alice Time a 12,95 euro al mese E navigare veloce costa meno di un'urbana Italia 1, 1 e 1 Ancora oggi quello è un luogo infestato dagli spiriti Dove i coraggiosi non si avventurano Perché quel giorno fu piantato nel terreno Il seme del male Johnny Depp L'omicidio non necessita di fantasmi sorti dalla tomba Cristina Ricci Non credo che tu abbia un cuore E avevo pensato di donarti il mio Dal genio visivo di Tim Burton Una delle leggende gotiche più suggestive dell'ultimo cinema Il mistero di Sleepy Hollow Faremo vedere dei filmati inediti Come sempre sarete voi da casa In diretta a decretare il vincitore Iva Zanicchi conduce Io tra di voi Domani alle 21 In diretta Su Rete 4 Solo la passione di un maître cioccolatier Riesce a chiudere in un guscio di finissimo cioccolato La scioglievolezza di Lindor Scioglievolezza Irresistibile scioglievolezza Ecco il segreto di Lindor Eh, mi sa che desideri un'auto Dopo il grande successo Continua il risparmio dell'IVA Sarà Picasso 1.6 Da 14.240 euro Ma che fai? Non vai? Oh! La bice è Milano E non si può immaginare Milano senza la bice E la bice senza il mio risotto Eh sì, io sono arrivato qui da ragazzo E qui ho imparato tantissimo Scegliamo dei cipollotti freschi Il riso che è molto importante Meno si gira meglio E usiamo i pistilli di zafferano Il dado Non ho imparato a fare il dado Eh, io uso il dado classico star Il mio segreto Classico come il mio risotto Per fortuna c'è star Dado star Il tuo segreto in cucina Se no eravamo rovinati E adesso il dentifricio Per denti più bianchi No, protetti Eh eh, più bianchi Protetti Io i denti li voglio bianchi Credi, mi hai bisogno di protezione Sei tu che hai bisogno di protezione Oggi non devi più scegliere tra denti bianchi o protetti Scegli nuovo aqua fresh whitening multi action Ridona delicatamente il bianco naturale dei denti E assicura protezione completa a tutta la bocca Scusate, denti più bianchi protetti Protetti più bianchi Nuovo aqua fresh whitening multi action Denti più bianchi Sempre protetti in un unico dentifricio Fuori Ci ho messo un'ora e mi ha incacciato Che porno Il prossimo Ci prepari un secondo speciale In un quarto d'ora Temperatura 200 gradi È una ricetta unica Il forno è ben caldo E voilà Pronti per voi Rollé di prosciutto cotto Con ripieno di spinaci Scusito Bravissimo Pronti per voi Un menù di specialità esclusive rovagnati Ma chi l'ha insegnato a cucinare? Ruvagnati Ah È solo quello che è Ramazzotti Da un amaro Ramazzotti nasce sempre qualcosa di positivo Amaro Ramazzotti L'amaro positivo Capiti? Crucico! Cambiani del mondo! Mamma c'è il ciumo? Ma no, è vapore È vaporetto L'ha inventato Polti Cambiani del mondo! Ciao mamma Ma fai il fumo? Sì Ma adesso vaporetto Aspira anche Si chiama l'ecoaspira Scioglie lo sporco Si beve la polvere E purifica l'aria E si ricarica al volo Vaporetto l'ecoaspira Passato, presente e futuro del pulito Anastasia Anastasia Céline Dion Shakira Cher Le più belle voci del mondo Insieme Vivas 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 Thank you Lo guardi I tuoi occhi non vedono altro Il tuo respiro si ferma I tuoi battiti aumentano È la purezza delle immagini La qualità Il design? Impossibile non desiderarlo Samsung Abvision Il televisore del futuro Digital Temptation Il televisore del futuro Magnolia Prima Tibure T4 Stasera Alle 23 e 10 Facciamo dolce? Lievito pane degli angeli Chi fa dolci Il cielo aiuta Siamo passati a Tele2 Perché il nostro figlio Lavora in un'altra città Lo chiamo ogni mattina per svegliarlo Prima che vada a letto Per il bacio della buonanotte Tele2 costa così poco Che lo chiamo più di prima Di sera La tariffa al minuto Dell'interurbane Con infostrada I 2,95 centesimi Con Tele2 Solo due Abbonati subito Al 19,22 Oggi per le pelli sensibili C'è la nuova crema Antirughe Eucerin Con coenzima naturale Q10 Studi clinici Dimostrano una riduzione Visibile delle rughe In appena 5 settimane Per le pelli sensibili Eucerin Protezione dermatologica In farmacia Silhouette Donna Il mensile per le donne Che vogliono essere belle Gli orologi più di moda Questo mese li trovi con Silhouette Scegli il tuo orologio Fra 5 colori di tendenza Per perdere 3 chili In una settimana Fai la dieta detox Che ti sgonfia rapidamente Oppure c'è la dieta macrobiotica Silhouette Donna E l'orologio moda Signorina Boccasana C'era il rosso Mi sa che anche la sua gola è rossa Eh con questo freddo Ho un mal di gola Ne nebulizzi Tanto un verde nebulizzatore Efficacia concentrata Dove serve Ehi funziona È un medicinale a base di benzidamina Leggere attentamente le vertenze E il foglietto illustrativo Ah ma è già finito Si aspettavo te Sei sempre in ritardo Carina eh Comunque pare squisito Hai usato Nuovo prealpi Con il 75% di colesterole in meno Ormai non hai più segreti Beh io devo andare Ho dimenticato l'invito È per me E Marco Ora anche tu non hai più segreti Nuovo prealpi Il gusto di vivere meglio Una cosa per te Un bacio Questo vuol dire che già mi ami Che sei pazzo di me E che staremo sempre insieme Sempre appiccicati Sempre abbracciati Come due teneri piccioncini E che mi amerai per sempre E avremo dei bambini Più o meno Un bacio Cosa vuoi dirmi Il problema dei fondotinta È che si sciolgono e non durano Sono Sally J Makeup Artist del Film Possession Lasting Performance di Max Factor È diverso Grazie allo speciale sistema No Transfer Dura perfettamente Fino a otto ore Così puoi abbracciare chi vuoi Senza lasciare tracce Lasting Performance di Max Factor The Makeup of Makeup Artists Nuove spianelle mulino bianco Buone come il pane Mangia sano E vivi meglio Mani di Fata Regala l'agenda Punto Croce Mani di Fata Tanta maglia anche da comprare I raffinati ricami da realizzare Mani di Fata Più nuovo Più tuo Clinianza azione antirughe E il primo trattamento all'estratto di milograno Prevenzione quotidiana Per difendere la tonicità del viso E del contorno occhi Clinianza Clinianza La mia clinica della bellezza Vorresti vedere quello che finora hai solo immaginato? Da oggi con Fasto Puoi vedere nel televisore la persona con cui parli al telefono Come vedi me adesso Fastweb Da oggi è anche videocommunicazione Incredibile cosa può fare la stanchezza che si accumula Quando sei debilitato e hai carenza di vitamine Con Supradin ritroverai tutta la tua carica Anche tu puoi ricaricarti con Supradin È un medicinale leggere attentamente il foglio illustrativo Arriva McCain Patate così Non le avete mai viste? McCain E vissero felici e croccanti I capelli stressati presentano sei sintomi evidenti E se io non li ho Una ragione c'è Uso il balsamo Pantem Pro V La sua formula unica alla provitamina combatte tutti i sei sintomi Scarsa pettinabilità Opacità Secchezza Fragilità Assottigliamento E doppie punte E li vedi forti e sani come tu li vuoi Sei sintomi Una risposta Balsamo Pantem Pro V Combatte i sei sintomi dei capelli stressati Bruce Willis Questo è solo il principio Vi inchioderà la poltrona Si stanno stregnendo Non avrete nemmeno il tempo per respirare Maledizione non può farlo Mercoledì Lo sto già facendo Alle 21 Stia giù Non cambiate canale State a vedere Hanno corretto il livello sul mare Meno 200 piedi Avete ancora pochi secondi per decidere di vedere questo film Bene Si conclude così la nostra prima lezione Poi vi resteranno soltanto Pieni da papà Tuffoni 58 minuti per morire Mercoledì alle 21 Su Rete 4 San Matteo Solo vini a indicazione geografica tipica Nell'esclusiva bottiglia infrangibile Questo programma è stato offerto da Pata Snella La patatina fritta Che si cuoce in forno Cari amici di Rete 4 La nostra serata di cinema festival Prevede ora il bellissimo film Magnolia Un racconto drammatico Interpretato da Tom Cruise e Julianne Moore Che vi presentiamo in prima visione assoluta Vi segnalo che la sua visione è sconsigliata ai bambini Buon proseguimento A più tardi A più tardi Copri più mino aquiloni zucchi Un altro dormire Guardia Marina Giovane ai tante Con un incarico molto importante Sgominare una banda di allibratori clandestini Che opera qui in Florida Ma per arrivare dritti allo scopo Ci vuole un socio abile al gioco Cervello zero Ma di forza alta Mi viene da piacere Due contro tutti Pensate sia poco? Lasciateli fare E state a guardare È un'ottima idea Non penserete che sia finita qui No Bud Spencer Terence Hill Pari e dispari Martedì alle 21 Su Rete 4 No Pensavo che il bacio fosse per me Che fosse un modo per dirmi delle cose carine Non so Che mi avresti portata a ballare E che mi avresti stretta a te Occhi negli occhi E poi E poi Però se il bacio non è per me È tuo Sicuro? Oh sì Un bacio Cosa vuoi dirmi? Non bevevo Jägermeister perché? Perché no? Jägermeister Perché no? Per chi accontentarsi di guardare il mondo da un finestrino Peugeot 307SV Esprit Libre E adesso il dentifricio Per denti più bianchi Protetti Oggi non devi più scegliere tra denti bianchi o protetti Scegli nuovo Aqua Fresh Whitening Multi Action Denti più bianchi protetti Protetti più bianchi Nuovo Aqua Fresh Whitening Multi Action Denti più bianchi Sempre protetti Grazie Mario Chi ama il caffè Sa che Ache È un piacere Che non finisce mai Caffè Ache Il piacere di un gran caffè Ogni volta che vuoi Oggi per le pelli sensibili c'è la nuova crema antirughe Eucerin con coenzima naturale Q10 Studi clinici dimostrano una riduzione visibile delle rughe in appena 5 settimane Per le pelli sensibili Eucerin protezione dermatologica in farmacia Risotteria Knorr Knorr La vita prende sapore Do you like what you see Mine is free I know you know everything will be Are you gonna get it your way today Don't touch my brain Averna Il gusto pieno della vita Voglia di auto nuova Scegli gli eco-incentivi Fiat Su punto Fino a 2850 euro di risparmio E 1860 euro su 600 Con finanziamento in 32 mesi a tasso zero Prima rata febbraio 2003 Dall'amore per la tradizione Un piacere senza fine Lasagne Emiliane Barilla Vere Emiliane Insieme erano perfetti Fammi sentire il tuo calore Tutto quello che vuoi Separarsi Sarebbe stata una follia Sei una donna meravigliosa lo sai Sì Neppure una momentanea perdita della ragione Poteva dividerle No 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 Fermi tutti io so a volare Puoi guarire in tre mesi E fra tre mesi sarai fuori Tre mesi Anche se in realtà Passarono dieci anni Aspetti una telefonata Dall'istituto oggi lui dovrebbe essere uscito Io amo Morino È mia moglie Abbiamo una famiglia ora Te la scordi perciò Chiaro? Sean Penn Palma d'oro al Festival di Cannes Come migliore attore Robin Wright Penn John Travolta She's so lovely Così carina Domani sera alle 23.25 Su Rete4 Enel Sì Il tuo elettricista di fiducia